E' terminata da pochi minuti la partita a San Siro tra Milan e Atalanta, una grande bella vittoria, un gran bel Milan Milan che vince 2-0 meritatamente, un Milan che ha dominato tutta la partita, un Milan che grazie alla sua intensità, grazie al suo ordine, grazie alla sua disciplina tattica riesce a contenere l'Atalanta, riesce a contenere tutta l'aggressività, la forza, l'esplosività della squadra di Gasperini e riesce a portare a casa un risultato importante che blinda la zona Champions League, che in qualche modo ci allontana ulteriormente dall'Atalanta e che ci permette di agganciare l'Inter, quindi una grandissima vittoria, appunto derivata da questa grande intensità, da questo grande ordine, da questa disciplina tattica ma anche da buone combinazioni tecniche dai giocatori di Milan che si scambiavano con grande armonia la posizione in campo Stefano Piolli ha preparato molto bene questa partita, lo dicevamo a inizio come presentazione, nel video di presentazione del match che Milan-Atalanta è una partita un pochino anomala per la Serie A, perché intensità, perché giocano molto spesso i duelli, uno contro uno perché giocano molto corte come squadre e anche oggi il risultato della partita è frutto di tutte queste caratteristiche caratteristiche che ha messo però meglio in campo il nostro Milan una difesa solida, si conclude questa partita e si realizza il quarto clean sheet di fila, quindi quarta vittoria di fila senza subire gol quindi dopo un periodo, un gennaio nefasto il Milan con la difesa 3, con questo nuovo assetto tattico, trova solidità difensiva quindi è importantissimo per blindare la zona Champions League, per fare punti, non subire gol e poi un Milan che ha trovato davanti goal, assist, qualità, fraseggi importanti e che può sicuramente migliorare ma se troviamo come abbiamo fatto questa solita difensiva e continuiamo su questa linea il Milan potrà sicuramente raccogliere risultati davvero davvero importanti un ottimo centrocampo sia Krunic che Tonale hanno fatto filtro, hanno garantito quantità e qualità hanno garantito anche fraseggi in verticale e soprattutto un Milan come abbiamo detto sempre nella presentazione della partita che avrebbe potuto vincere la partita grazie agli esterni Messias a destra e Teo Hernandez a sinistra hanno messo in serie difficoltà sia male sia Zappacosta con le sfuriate, con la qualità di questi giocatori hanno saputo creare superiorità numerica Giroud molto bene, un primo tempo davvero impressionante per capacità di pulizia palla per la capacità di farsene la squadra, di duettare, di venire incontro, andare in profondità è un attaccante completo, un fuoriclasse completo mentre Rafa Leao con questa sua libertà ha avuto qualche occasione, peccato che non sono state concretizzate nel secondo tempo è entrato Ibrahimovic, è entrato Decatler è un Milan che però in qualche modo stava gestendo il risultato un'Atalanta che comunque è apparsa poco cinica oggi, poco propositiva solamente due tiri in porta, tiri però che non hanno impensierito Mike Magnanki quindi oggi ha fatto da spettatore, ha ripreso confidenza con San Siro ha ripreso confidenza con il campo quindi note positive tante, i tre punti, il rientro di Mike Magnani, il rientro di Ibrahimovic peccato ci sono state due note stonate che sono Rafa Leao e Krunic che diffidati hanno preso la munizione, salteranno la partita contro la Fiorentina staremo a vedere se lì davanti verrà sostituito con Rebic o Origi, il Leao e lì in mezzo al campo vedremo se uno tra Pobega o Aster Franks o addirittura come sembra visto che martedì rientra potrebbe fin da subito rientrare Ben Nasser comunque grande vittoria, vittoria importante che blinda la Champions League dobbiamo assolutamente continuare così, non dobbiamo fare la corsa su nessuno come vedete non ho parlato di classifica, non ho parlato di nulla dobbiamo continuare a pensare a noi, dobbiamo vincere e dobbiamo far più punti possibili poi alla fine dell'anno tireremo le somme e come sempre, grandi ragazzi e forza Mira!